Ci si ripete ancora in questo cocco attuale, dopo aver viaggiato dentro il sogno, l'inconscio ci comunica quei sogni, frammenti di verità se vuoi, quando fui donna o prete di campagna, un mercenario o un panno di famiglia, e questo è un sogno ci si vede un po' diversi, i loro sconosciuti sono famigliati, restano i nomi e cambiano le facce, e l'incontrare tutto può accadere, come era contagioso il nuovo cielo, e c'era qualche cosa in più nell'altra, Vieni a prendere un tè, al caffè te da me, su vieni con me. Devo difendermi da insidie, velenose, e cerco di inseguire il sacro quanto d'oro, volando indietro, in epoche passate, in cortili, in primavera, le sapie colonate di un deserto, le rive trasparenti dei riuscelli, vieni a prendere un tè, al caffè te da me, su vieni con me. Ancora oggi, le rete della tuntra, trasportano i muti nomadi, che per loro migliaia di chilometri in anno, e a prendere un tè, al caffè te da me, su vieni con me.